Vai 150, destra in sinistra Piri, vai 80 e al cancello diventa più, al cancello diventa più, per dopo strada destra 5, in attenzione piega sinistra meno asfalto, sinistra meno asfalto, 70 e d'attenzione attenzione all'alberello diventa sinistra 3, apre molto e stringe, in piega destra asfalto. Vai 150 ed attenzione attenzione destra 1 più, leva a terra, in vai piega sinistra, vai 80 e al cancello diventa sinistra 3 più, in piega destra meno, piega destra meno, 50 ed attenzione attenzione diventa ritarda 2 meno, stringe e apre. Vai 200, fine pali sinistra, piega destra più, tieni, in vai piega sinistra lunga, 150, piega destra più, piega sinistra lunga, 150 ed attenzione fine ringhiera a destra 5 meno, stringe, in piega sinistra tronco. Vai 70, piega destra asfalto, vai 150 ed attenzione attenzione all'arangio, destra 2 più, all'arangio destra 2, in sinistra 3 più, sinistra 3 più, vai 150 ed attenzione invidio taglia, sinistra 2 apre, in anticipa destra 2 più apre, no albero. Destra 2, vai 100, destra 3 più, 80 ed attenzione sinistra 2, attenzione sinistra 2, vai 80 ed attenzione al palo sinistra 2 meno apre poco, vai 70 sinistra 4 lunga, vai 100 e attenzione salta. Vai 150, piega destra lunga, 70 ed attenzione all'arangio sinistro diventa 3 tieni no, per ritardo a poco e sfiora a sinistra 2 più, ritardo a poco a sinistra 2 più, vai 100 ed attenzione attenzione ritardo all'arangio destra 2 più, no invidio, 2 più no invidio. In vai taglia sinistra 3 più, invidio piega destra, 150 ed attenzione attenzione al cespuglio sinistro basso in bivio, sinistra 1 scende e stringe bocca a leva. Qui galleggia eh, vai 80 mossi piega destra taglia, vai 200 e alla fila alberi, 50 e attenzione attenzione destra 2 mossa, attenzione destra 2 mossa. In vai piega sinistra, 80 ed attenzione alla balla, bivio destra 1 meno leva asfalto, destra 1 meno leva asfalto, diventa piega destra. E vai 200, all'albero sinistro alto, sinistra 2 meno meno tieni tutto, in destra 2 più, apre siepe, 2 meno meno tieni tutto, in destra 2 più, apre siepe, vai 300. Ai rovesci, 80 ed attenzione, dosso destro meno meno, stringe in ponte e non tagliare, stringe in ponte e non tagliare, destro destro meno meno, 50, dopo palo invidio sinistra 1 anticipa leva. Vai 100, sinistra 4 tieni, in destra 4 no, 4 tieni, in destra 4 no, in sinistra 4 apre buona, vai 80, diventa attenzione 3 più, diventa attenzione 3 più, vai 50, diventa anticipa sinistra 5, apre in piega destra, 100 ed attenzione attenzione alla palla, bivio imposta destra 2 meno scende sì. Vai 150, dopo i paleti destri 20 mossi, ed attenzione sinistra 2 più, apre molto in piega destra, 2 apre molto in piega destra, vai 150, dosso destro, vai 70, sinistra 4 apre, 4 apre, in vai destra 5 sì, destra 5 sì, vai 200 ed attenzione attenzione alla palla, sinistra 1 leva, sinistra 1 leva. Vai 50, piega sinistra, vai 100, e dosso salta molto, dosso salta molto, e vai 150, piega destra, piega destra meno 100, attenzione attenzione alla palla invidio sinistra 1 leva. Vai 50, diventa piega sinistra, per vai destra 5 tieni, in sinistra 4 più, non tagliare, 4 più, da sinistra non tagliare, per vai destra 5, 150 ed attenzione attenzione, ritardo a destra 2 invidio, ritardo a destra 2 invidio. Per vai piega sinistra tieni, vai piega sinistra tieni, per vai destra 4 più, apre taglia, 200 ed attenzione attenzione, invidio asfalto, destra 2 più, diventa subito 3 più terra, occhio qui, diventa subito 3 più terra, occhio a prima. In vai sinistra 4 più, in vai, vai e sfiora piega destra, per sinistra 4 più, 4 più la sinistra, 150 ed attenzione attenzione, invidio imposta a destra 2. Vai 200 ed attenzione, invidio sinistra 1 più leva, sinistra 1 più leva, sinistra 1 più leva, sinistra, vai 150. Destra 5, apre, vai 150 ed attenzione, ritardo a sinistra 4 meno stringe, in destra 3 più, apre, 4 meno stringe, in destra 3 più, apre, vai 150. Che porti tu? Hola, che porti? 5,56 Ciao, ciao. Ciao, ciao.